E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki E io sono Stefano e che si aggiunge come Escape the Titanic E siamo tornati nel nostro escape, prontissimi a continuare e a scappare da questa nave che sta affondando Quindi muoviamoci, iniziamo subito Sì, vorrei dirti una cosa, visto che nel primo episodio eravamo poco seri Oggi ti vorrei vedere un pochettino più seria e concentrata Ma guarda che lo scorso episodio siamo stati serissimi, bravissimi e fantastici e bellissimi Forse abbiamo visto due cose diverse No, 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 sei tu che ti sbagli Comunque, allora, vediamo un attimino se si è risolto prima di tutto il problema di ieri Vedi? Ok, ora sì, ora sì, tutto a posto Quindi 29 era 12 più 17 Esatto Quindi io praticamente clicco così, clicco, vedi? E lui quindi li attacca Ok, ok, ottimo, ottimo, ottimo Così vedi ciò che ieri non hai visto Allora, poi 32, per fare 32 potremmo fare 19 più 13 Sì, quindi 19 è questo E dov'è l'altro? È lì sopra, lì sopra, lì sopra Ah, no, è questo qua, eccolo Ok, non lo trovavo Infine 26, 26 lo possiamo fare con un 16 più 9, no, farebbe 25 E allora, no, 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 non ci siamo No, non ci siamo, non ce l'abbiamo Oppure ne possiamo attaccare più di uno? Proviamo a fare prima il 26, così magari ci sbarazziamo di più fastidioso 17 più 9 che sta qui 26 Ok Ok Dopodiché 32 ci arriviamo con un bel 19 più 13, sì Ok, il 13 è questo E infine per fare un 29, no Cioè come è possibile? Ci servirebbe il 13 perché è 16 più 13 Altrimenti possiamo fare Mi sto intrippando Mi sto intrippando totalmente 15 Allora, se se ne possono mettere tre basta che faccio 15 più 5 Eh, sì, 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 sì 20 più 12, 32 Prova Allora Secondo me sì 1 2 3 Yes Ottimo, bravi, bravi, bravi Ah, ok, ok, ok E quindi ora possiamo andare avanti Però abbiamo spaccato anche la scala che avevo già notato Quindi come possiamo fare? Con una bella pubblicità del dentista Ok Eh, ok Ah, lo vedi? Ah, sì, sì, ok, difficilissimo E come faccio? Un bel lancio Vedi che è più Indiana Jones che tra bocchetti comunque Eh, vabbè, o almeno è diverso dei soliti mici città Sì, 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 ma ogni volta che ne facciamo uno A me sta piacendo Anche a me Anche a me Anche a me Apprezzo, però volevo far notare appunto la distinzione Allora, non ho ben capito però la meccanica del lancio con la corda No, aspetta, stai sbagliando Quello non è un gancio, è una lampada Quindi non ti ci puoi appendere lì Guardala bene, è una lampada Anche a me all'inizio sembrava un gancio per come era fatto Illusioni ottiche Eh, esatto Non siamo noi Allora prova ad agganciarti tipo a uno di questi cosi No, e se collego la corda? No, non posso No, che senso aveva? Non lo so, ci ho provato Non lo so, sono disperato Cosa devo fare? Come avevo detto io ti dovevi agganciare i ganci della scala Sì, ok, ma Mi dovresti ascoltare prima qui Cara, ci ho messo due minuti e mezzo dopo averlo capito Eh, lo so, che ti devo dire? È difficile, è difficile Ho lanciato quella corda 452 volte Allora Ok Allora è un alfabeto perché si capisce Ah, vabbè, devo prima girare e poi girerà quello Ok Allora, a cosa diamo? Direi Non lo so Secondo me l'ancora con l'ancora Sì Così E poi sistemi tutto il resto di conseguenza In base a questo Eh, secondo me sì A me non piacciono queste cose Vabbè, tu prova Allora Secondo me ci sta Allora, allora, allora Quindi facciamo Quindi terzo cerchio va nel terzo anello Esatto Così? Esatto E poi fai l'ultimo Ok Dimmi quando combaccia No Non ci sei, non ci sei Trova altre combinazioni Quando c'è la W Questa Aspetta, aspetta Così E adesso fai l'ultimo Non è tutto giusto? No, l'ultimo Non lo vedi? Questo Massimo Cambia Esatto No, vabbè Eh Allora Allora, allora Piano piano Aspetta che Stacco questo Che da carica al telefono Tieni Fallo tu Fallo tu Perché mi devi scocciare? Perché io queste cose Non le posso fare Dici Quindi adesso tu ti metti lì Calma, ti concentri E piano piano te lo fai Perché Io potrei spaccare il monitor Provando a fare una cosa del genere Sì Fatto Gira la manopola Prova a rinsultarmi l'altra volta Brutto, disgraziato, inutile Che non sei altro Provaci Guardate come se la tira Perché ha giocato una cosa nella vita No, tu stavi dicendo che era impossibile Poi, allora Io dal primo episodio Che tutto quello che dico è giusto Tu non mi ascolti Perché sono schifezza Senza di me riesci a farle Quando vai? Allora, riguardati il primo episodio Poi ne riparliamo Allora, hai sbagliato tutto Non riesco a girare la manopola Hai sbagliato tutto Mi insultavi perché non c'eravamo Ti ho detto i gacci delle scale Ti ho detto questo Ti ho detto i numeri Ti ho detto tutto Inventando Sei un falso bugiardo I numeri ho fatti io Ma quando me li dici Sì, ma te l'avevo detto io Che dovevi fare le addizioni Fatto Ci arrivava anche un bambino Che dovevamo fare le addizioni E tu non ci sei arrivato Stai zitto Allora Allora, ti lascio qui ad affondare Allora, il biglietto Per favore Ah Per il gioco completo da comprare Perfetto Allora Aspetta No, no, aspetta 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 Stiamo calmi Per favore seleziona 5,60 euro Sopra full game Con pure le risposte Che non ci interessano Perché siamo bravissi Oppure dice full game Con soltanto i suggerimenti Ok Dai, ci sta quello Però perché dice free O 2,23 Non lo so Free Devo Ah no, sono cose Lascia perdere Sono cose Ho capito che tipo di cose sono Ma lascia perdere Disgraziati che ci fanno spendere soldi Eh vabbè Dai, però 2,23 Non è così tanto ci sta Per un gioco così bello Perché è fatto davvero bene Io sono d'accordo a supportare gli sviluppatori Te lo dico, vai Possiamo vestirci Allora, voglio queste scarpe E la giacca non ce la fa mettere Ah, dopo forse La camicetta Ok E apposta così? La giacca? Possiamo andare? La giacca no Possiamo andare? Cosa dobbiamo mettere ancora? Questo è stranissimo Non ho capito Cosa vuoi di più? Vabbè, ma tutti a noi capitano Si era flippato Nella combinazione che avevamo Praticamente Dovevamo essere monocolore E si era buggato E non avevamo tutto Per fare un monocolore Quindi abbiamo dovuto Chiudere il gioco Riaprirlo E finalmente ce l'abbiamo fatta Esatto Perché per far mettere il greenbillio Dovevamo avere tutto abbinato Quindi per fortuna col blu ce l'abbiamo fatta E tu prenditi cura di questi ordini Ok, allora Ok, ok Dobbiamo fare gli spiedini Questo Le olive Me lo sono già dimenticata Anche io Così E il pomodoro Vai Arancione Marrone, bianco, rosso Marrone Arancione No Arancione, marrone, bianco e rosso Via Sì, ottimo, ottimo Rosso, arancione, bianco, marrone, giallo Rosso, arancione, rosso, arancione, bianco, marrone, giallo Via Aiuto Verde, verde, marrone, rosso, giallo, arancione Verde, verde, marrone, marrone Verde, verde, marrone, rosso, giallo, arancione Verde, verde, marrone Rosso, giallo, arancione Mamma mia Verde, giallo, bianco Bianco, arancione, rosso Vai che ce la facciamo Rosso, verde, giallo, marrone Allora, rosso, verde, giallo No, non l'ho visto tutto Marrone, bianco, arancione No Era arancione, bianco, rosso, verde Giallo, marrone Marrone Arancione, bianco, non me lo ricordo più Yes Che difficile Mamma mia 4, 8, 7, 5, 7 Che cosa voleva dire? Spero che non dobbiamo ricordarci Scusa, ma allora, la nave sta affondando Chi è che pensa a mangiare in sto momento? Io, forse Però, non si deve fare Devi scappare Allora, aspetta Questo è in base ai colori Guarda, Steph È quello lì in fondo Sarà meglio che ti sbarazzi del Prestantino di Prora Se me lo mettessi in inglese Preferire in inglese Di cosa ci dobbiamo sbarazzare? Destra Roteazione Sinistra Sinistra Roteazione Destra Roteazione Opla Opla Che gira molte qua Insieme ai due piedi Ole Ole Aiuto, è difficilissimo Ole Soprattutto perché Siamo a metà adesso Eh, esatto Non finisce più Concentrati, Steph Ma no, le sta affondando Non potete ballare Perché ballano? Perché ballano? Perché ballano e cenano? Ecco, vedi Mi hai fatto ballare un passo Devi stare zitto in questi momenti Ma non ha senso È un ballo complicatissimo Che non sapresti mai fare nella vita Stai zitto Uh, uh, uh Ce ne possiamo andare da questi svitati Che pensano solo a ballare Il suo nome, prego Gionsualdo Arisboldale Sì Credo che dobbiamo dire Allora, dobbiamo sicuramente Unire i nomi con le firme Secondo me Per dire Per capire qual è il nostro nome Perché se non abbiamo firmato Vuol dire che non siamo ancora Arrivati al guardaroba Oppure Oppure Dobbiamo dire il nome Di qualcuno Che non ha ancora firmato Per far finta Di essere quella persona Anche Però l'importante È unire le cose, no? Sì Allora, Victor Robbins c'è JJ Astor c'è William Haight Eeeh Hoyt Hoyt c'è È il primo È il primo È il primo Mina Harper Harper Sì C'è Ok Ah, li dovevi unire Quello che ti ho detto Fin dall'inizio Sono disgraziato Guarda perché non mi ascolti mai Ti uccido Ti lascerò qua affondare Allora Aspetta Fammi disattivare questo Eh, esatto Così Perfetto Abbiamo perso un sacco di tempo Allora Hoyt È perché te l'avevo detto Sono ascolti Hoyt col primo Dai No, no Mi stai confondendo Allora Fammi fare a modo mio Tutti a caso Il mio senso logico del cervello Va un po' al contrario Harper È questo? Sì No Harper è l'altro E questo chi è? Quello che ci serve Ok Quindi muoviti Allora Harper Con questo Ok E poi Hoyt È questa qua Ok Adesso Ah, sono cambiati Non so perché Quello è Harry Vedi? Homer e Harry Sono cambiati Quando hai Quindi siamo Fortune Mr. Mary Grazie Mrs. Mary Prima eravamo un uomo Ora siamo diventati una donna Nel giro di 10 secondi Sì Sì E quindi? Lo devi firmare Secondo me Clicca? Eh, l'ho già cliccato Il suo capotto signore Ok, ok Ottimo È sospettoso Perché abbiamo firmato da donna E siamo un uomo Lo so già Guarda Lo so già che finisce Tieni soldi Dai da bravo Molto bene Grazie Ciao Arrivederci Ma stiamo raffinando tutti Al mentre che non va a fondo Stiamo raffinando Oh mio Dio Chi se ne frega di un capotto Se sta crollando la nave No? Allora no È di nuovo di quelle volte In cui devo togliere tutto Veloce Veloce Sì Però sembra che sia un puzzle In cui devo andare Con un ordine preciso Eh Hai qualche idea? Qualcosa Qualcosa di doro Che hai preso Distruggilo Brava Bravissimo No vabbè Ora ti sei meritata Una medaglia Ma già dal primo episodio Cioè Tutto dietro di me È sotto l'acqua E davanti a te C'è un fuoco Cosa preferisci? E' un po' confuso Vabbè giustamente Non è che sei molto lucido Puoi dire cose Un po' sconnesse Allora La graffetta Per scastinare No No Mi è ripiaciuta Così proprio istantanea Ah beh Ci stava dai Ma qua è entrata Guardata Ah vedi Dovevamo solo trovare La porta giusta Ok Esatto E adesso però come Io non sono uno scastinatore Provetto Ah devi metterlo E poi girare Funziona così Sempre nei giochi Tu lo inserisci Capito E trovi la combinazione giusta Allora un attimo Ecco fatto Feriniki Dovrei giocarlo solo io Queste escape Tanto tra i miei consigli E tutte le cose Che sto facendo io Dovrei farlo da sola Dovresti andartene E la serie la finisco io da sola Sono molto turbato Ok Quindi mi fermo così A priori Allora Vuoi finire quale episodio? Le mie abilità di scastinare Vuoi finire qui l'episodio tu? No Allora ci fermiamo Quindi il video finisce qua ragazzi Il prossimo l'ho giocato tutto Feriniki Perché mi ha altamente offesa Ha rovinato la mia reputazione Già in due episodi l'ho umiliato Giocatore esperto di escape Quindi l'episodio 3 sarà completamente giocato da Feriniki Ci fermiamo qui Secondo me è il posto dato Perché siamo nella cameretta C'è il letto Si riposa un po' Mentre la nave crolla 5 minuti esatto E poi riprendo a scappare Riposino tattico no? Certo Speriamo che vi sia piaciuto Nel caso like Sui commenti Eccetera eccetera E ci fermiamo così Bene che se riesce così Se ci piace C'è un bel like E questa è la prima volta che ho avuto il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!